Dopo le polemiche dei giorni scorsi sollevate da un gran numero di sindaci dei comuni esclusi dal contratto di sviluppo a Campobasso è arrivato l'amministratore delegato di Invitale Arcuri accompagnato dal consulente del premier Conte Capozza per incontrare gli amministratori una riunione nel corso della quale i sindaci hanno sollevato molti dubbi sulle procedure seguite per la selezione dei progetti l'amministratore delegato Arcuri dal canto suo si è detto pronto al dialogo gettando acqua sul fuoco Tutti i giorni che si spendono a lavorare sono più importanti di quelli che si spendono a protestare il contratto istituzionale di sviluppo come il presidente Conte ha ribadito questa settimana nelle aule parlamentari è un'occasione molto importante per lo sviluppo di questa terra che ne ha molto bisogno da molti anni il governo ha fatto uno sforzo molto importante anche nell'unità di tempo che vi ha dedicato a che questo accada noi siamo qui come siamo stati a Disernia qualche giorno fa per lavorare siamo convinti che le nostre ragioni verranno ascoltate e condivise dai sindaci che si sentono esclusi e che invece non devono sentirsi esclusi devono sentirsi ancora più impegnati a far sì che nella successiva tornata di progetti che verranno approvati che senz'altro ci sarà potranno rientrare anche le loro iniziative che in Italia non si occupa di politica sin dalla sua Costituzione e continueranno a occuparsi di politica almeno fino a quando sarà gestita da noi che il presidente del Consiglio è soltanto da apprezzare da parte dei cittadini e degli amministratori molisani perché ha pensato che il Molise fosse uno dei primi territori ad aver bisogno di sviluppo e non di aver bisogno di politica le valutazioni sono state fatte attraverso il contributo di 12 diverse amministrazioni centrali e locali con un sistema che è divulgabile, che è riconoscibile e che ha tutto tranne che una dimensione politica poi lo sapete, nel Sud il tempo si passa a protestare invece che a fare le cose e tutto il mondo, le opposizioni che sono state già maggioranza quando smettono di esserlo fa parte del gioco della politica e non solo della politica che protesti grazie 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 grazie